Ciao a tutti, sono Andrea, lo chef della Crozet, e oggi vi rivolgo un riso al nero di seppia con cimone romano e concentrato di pomodoro. Allora, gli ingredienti sono riso carnaroli, scalogno, la seppia, cimone romano, burro concentrato, mascarpone, peperoncino, olio, sale e vino bianco. Allora, andiamo a pulire la nostra seppia, facendo attenzione a non rompere la sacca, dove è contenuto il nero. Allora, andiamo a pulire la nostra seppia. Allora, andiamo a pulire la nostra seppia. Allora, mettiamo a bollire una falda della nostra seppia, che ci servirà poi per guarnizione. Allora, mettiamo il brodo di pesce, lasciamo appassire il nostro calonno. Allora, tostiamo il riso nella maniera classica. Cosa molto importante del risotto, andiamo a bagnarlo con il brodo di pesce caldo. Allora, mettiamo il brodo di pesce caldo. Che come algo un giornale è Hooke100. Il nostro piatto è pronto Guccio d'olio Buon appetito Ci vediamo alla prossima